Parliamo di arte, è ispirata al passino antico delle icone medievali, l'esposizione è realizzata a Conversano da una giovane artista della cittadina del sud-est barese. FEDERICA CARONE Ha allestito a Conversano, nella sua città, nei pressi del castello, una emozionantissima mostra dall'intrinseco sapore classico religioso. La suggestiva esposizione, Arte a corte, esposizione di icone medievali, ripropone all'incantato pubblico una serie di lavori realizzati tutti su basi linie, che ripercorrono e ripropongono tutta la bellezza stilistica delle icone medievali che hanno maggiormente segnato la vita dei fedeli cristiani. Una ventina di capolavori le opere esposte per una mostra davvero incantevole in un viaggio tra arte, fede e tradizioni. FEDERICA CARONE